Eccoci di nuovo qua sullo show floor delle 3 2018 pronti a farvi fare un altro giro nei padiglioni della fiera dopo essere andati a curiosare nella South Hall stavolta è il momento di portarvi nella West Hall ovvero la location in cui come ogni anno allestiscono i loro padiglioni due dei publisher più importanti del mercato ovvero Sony e Nintendo prima di entrare però nei loro stand facciamo una camminata nel corridoio laterale passando accanto al booth di Gang Ho Colosso orientale che ovviamente si prende un bello spazio per presentare il suo Ninjala un titolo competitivo che nei colori e nello stile assomiglia molto insomma al ben noto Splatoon camminando nelle parti laterali dello stand troviamo un altro paio di produzioni un po' più piccoline e ci avviciniamo invece a uno dei booth meglio allestiti della fiera ovvero quello di The Walking Dead il titolo multiplayer sviluppato da Overkill vorrebbe recuperare un po' le meccaniche cooperative che già abbiamo conosciuto in Left 4 Dead e qua vediamo appunto che l'allestimento è comunque molto carino come se volesse replicare il contesto di un'apocalisse zombie con tanto di non morti impalati sulle auto della polizia andiamo avanti e passiamo accanto allo stand dei colleghi di IGN trovando anche facendo anche incontri un po' particolari e peraltro questi attori che interpretano gli zombie sono disseminati davvero in tutta la fiera e troviamo qua il padiglione di Siga e Atlus questa prima parte è un po' è allestita in maniera regolare serve a presentare la line up di Atlus fra cui spiccano appunto Yakuza Kiwami 2, Valkyria Chronicles e Sonic Racing in questa postazione pensata per fare foto di colore ma molto più carino è questo piccolo tempio allestito per Total War Three Kingdoms il capitolo dello strategico ambientato in Cina che insomma ci accoglie anche con un samurai a grandezza a misura d'uomo oddio anzi forse anche un po' più imponente adesso però schiviamo l'area business e entriamo all'interno dello stand Nintendo come sempre Nintendo sceglie un prodotto di spicco in questo caso per la sua partecipazione all'E3 ha scelto Super Smash Bros Ultimate portando nell'area d'ingresso del suo padiglione tutti gli oggetti che appartengono ad alcuni dei personaggi principali inclusi nel roster abbiamo visto il cappello di Mario qui vediamo la dotazione bellica di baionetta un grande martello di King Dedede mentre andando avanti ci sono anche la cravatta la cravatta di Donkey Kong da questa parte l'elmo di Captain Falcon e ovviamente la Master Sword di Link assieme alla tavoletta Sheikah dell'ultimo episodio complessivamente lo stand di Nintendo forse è un po' meno esuberante rispetto a quello degli anni passati l'anno scorso per esempio la casa di Kyoto aveva replicato New Donk City, una delle ambientazioni di Super Mario Odyssey qui invece lo spazio è allestito in maniera un po' più regolare e largo spazio è stato dato alle produzioni terze parti uscendo dallo stand uscendo dallo stand mentre arrivano i pupazzi di Eevee e Pikachu che raggiungono l'angolo del padiglione dedicato proprio ai nuovi Pokémon Let's Go che qui vediamo organizzato in quest'angolo dicevo uscendo dal padiglione e salutando appunto Nintendo ci imbattiamo invece nello stand di Sony stand di Sony sicuramente il più imponente dal punto di vista delle proporzioni sicuramente il più imponente dal punto di vista delle proporzioni anche in questo caso ci sono degli attori che passano tutto il giorno qui vediamo le creature stravaganti di Concrete Genie e lungo i colonnati ci sono le grafiche ufficiali delle esclusive che arriveranno su PlayStation a partire da Days Gone per arrivare a Dreams per poi giungere a Death Stranding il nuovo lavoro di Kojima che ci porta anche una riproduzione di Norman Reedus vestito con la tuta che abbiamo visto in azione nei trailer del gioco ma adesso è il momento di entrare fisicamente nello stand uno stand che quest'anno è molto povero dal punto di vista delle postazioni di gioco c'è qualche postazione dedicata a FIFA qualche postazione dedicata a Destiny 2 ma in realtà la larga parte dello spazio è presa appunto da un maxi schermo che proietta i video della conferenza adesso stiamo vedendo proprio quello di Death Stranding l'unica esclusiva che è giocabile qui alle 3 è Spider-Man peraltro l'allestimento di Spider-Man è anche molto carino viene replicato un angolo di New York ovviamente troneggia il logo ufficiale della produzione e c'è l'Uomo Ragno con la nuova tuta almeno una riproduzione dell'Uomo Ragno con la nuova tuta che supervisiona tutta quest'area in cui ci sono una trentina di postazioni di gioco adesso usciamo anche dallo stand Sony che è sicuramente ben organizzato ma come dicevamo ci aspettavamo qualcosa in più dal punto di vista delle produzioni giocabili e siamo quasi arrivati alla fine di questo nostro giro della West Hall questo infatti è un lungo corridoio nuovamente decorato con le grafiche ufficiali di Playstation e delle esclusive vediamo anche lo Shinobi di Ghost of Tsushima questa è un'area invece solo dedicata alla stampa ci lasciano rilassare un po' e l'altro angolo dello smisurato padiglione Sony è dedicato alle produzioni VR quindi ci sono queste piccole stanzette in cui è possibile indossare il Playstation VR imbracciare in qualche caso anche il Playstation AIM e poi giocare a tutta la proposta software fra cui Astrobot Ghost Giant Firewall di fronte a quest'area dedicata alla realtà virtuale c'è invece la parete dello stand di Focus Home Interactive che dopo aver pubblicato Vampyr qualche giorno prima della fiera di Los Angeles si presenta qui alle 3 comunque con delle postazioni dedicate a questo nuovo titolo e con un piccolo angolo e con un piccolo angolo dedicato invece a Farming Simulator 19 con un enorme trattore e un simpatico cavallo su cui io probabilmente chiuderei questo giro perché siamo abbiamo fatto un giro circolare siamo ritornati sostanzialmente di fronte allo stand da cui eravamo partiti quindi abbiamo visto anche quest'area dello show floor la West Hall vi ringrazio come sempre per avermi seguito in questa passeggiata alla scoperta dei boot degli allestimenti e con le 3 ci vediamo il prossimo anno l'perito l'allestimenti Grazie a tutti.